E' una nostra ricerca cosa che non è per mai un rinunciamento, affondare la propria origine, non necessariamente connessa alla scelta, intera da un fatto e destinato a un reale immaginamento, e che appunto nel primo rito settembre io fui nato, oltre a un trotto, da sempre magnifici, religiosissimi bordelle, case di cultura tollerante, confluenze islamiche, ebraiche, arabe, turche, cattoliche, n'è stessa la stupenda cattedrale, suo favoroso mosaico affrontato all'albero della vita, dell'anno anche cegico. Ora, quando sarà una settimana sintetica di biografia, che fondando purtroppo non esserci, sulla pardon o sulla mancanza, non può che lasciarsi agilare dall'immaginario di questo stesso reale, se vuol dire che oltre a un trotto, si tratta da una storia, che è inclusa la strategia di tutti, che può continuare a essere il culto, cultura e la strategia di storia, che prevede la storia di nostri amici. Grazie.